Lilli e il vagabondo La neve cade dolcemente sulla città. È la notte di Natale e Gianni Caro ha regalato a sua moglie Tesoro una tenera cagnolina. Si chiama Lilli e non vede l'ora di saltare tra le braccia della sua padroncina. Tesoro è rimasta a bocca aperta. Oh, sente già di adorare quella cucciolotta. Nella nuova casa Lilli si trova benissimo e passa giorni felici. La cagnolina ha un buon carattere, così fa presto conoscenza con i suoi vicini, Whisky e Fido. Oggi Gianni e Tesoro le hanno regalato un nuovo collare e lei lo mostra tutta fiera ai suoi amici. Biaggio, invece, non ha il collare. È un cane randaggio che vive con i suoi compagni di strada. A lui non interessano le belle case e non ha un padrone. Tutto quello che vuole è essere libero e dovunque vada porta allegria e spensieratezza. Passa il tempo. Lilli ha l'impressione che i suoi padroncini non le vogliono più bene. Sono distratti, non la coccolano. Whisky però la rassicura e le spiega che Tesoro aspetta un bambino. Lei e Gianni sono soltanto molto occupati e Biaggio, passando da quelle parti scherza, un bambino. È un delizioso fagottino di guai. E un bel giorno il bimbo nasce. Lilli ha una gran voglia di vederlo. Così, piena di curiosità, appoggia le zampine sul bordo della culla. Sbircia tra i fiocchi ed ecco, lo vede, un bellissimo bebè con il faccino più dolce che c'è. Le novità però non sono finite. Nella casa di Gianni e Tesoro, due mesi dopo infatti, i due sposi partono per un breve viaggio e chiedono a zia Sara di badare al bambino. Ma Sara non è arrivata da sola. C'è qualcuno nel suo cestino azzurro. Due gatti. I due micioni sono molto, molto dispettosi. Appena arrivati in casa si agitano a più non posso. Saltano sul pianoforte, tirano la tovaglia, fanno cadere un vaso e la boccia del pesce rosso. E a chi dà la colpa di quel disastro a zia Sara? Non certo ai suoi amati gatti, ma a Lilli. Così, per punizione, la zia porta Lilli in un negozio di animali e le fa mettere una museruola. La cagnolina non vuole, si agita e alla fine scappa. Ora è tutta sola per le strade della città e rischia di mettersi nei guai. Ma per fortuna incontra Biaggio. Il Lilli nel giardino zoologico, dove un bravo castoro mordicchia la museruola e libera la cagnolina. E adesso? Beh, bisogna pensare alla cena e Biaggio sa come risolvere anche quel problema. Il Randaggio conosce bene i proprietari di un ristorante in città. Si chiamano Tony e Joe e sono felici di preparare per i due cagnolini una meravigliosa cena a lume di candela. Spaghetti e polpette, che bontà! E per rendere tutto ancora più romantico, Tony suona la fisarmonica e Joe il mandolino. Dopo cena Biaggio decide di fare una corsetta in un pollaio per spaventare le galline. Non vuole fare niente di male, le trova così buffe quando corrono e strillano. Ma il proprietario del pollaio arriva all'improvviso e acciuffa Lilli, mentre Biaggio riesce a scappare. Chi è disdetta? La cucciolotta è finita in un canile insieme ad alcuni simpatici randaggi. Lilli è tanto infelice, eppure non resta prigioniera per molto. Grazie al suo collare la calappiacani capisce che ha dei padroni. Sei troppo per bene per restare qui piccola, le dice, e la riporta a casa da zia Sara. Lilli finisce in castigo. La zia l'ha messa alla catena, e quando Biaggio una notte va a trovarla, la cagnolina gli dice che non vuole avere più niente a che fare con lui. Per colpa sua è finita nel canile e ha avuto tanta paura, e così Biaggio si allontana, triste. Biaggio se n'è appena andato, quando un grosso ratto entra in casa. Lilli comincia ad abbaiare a perdifiato e a tirare la catena, ma zia Sara non si accorge del topaccio e la sgrida. Zitta, sveglierai tutto il quartiere! Intanto il ratto è già entrato nella camera del bambino. Biaggio, sentendo Lilli abbaiare, torna di corsa e la cagnolina gli spiega. C'è un ratto in casa, presto entra passando dalla cucina. In un baleno Biaggio raggiunge la stanza del bambino e affronta l'intruso ringhiando. Nel frattempo, a furia di tirarla, Lilli ha rotto la catena e si è liberata. Corre nella stanza con il cuore in gola e tira un sospiro di sollievo. Biaggio ha messo fuori combattimento il ratto, ma proprio in quel momento zia Sara entra nella camera. La zia non crede ai suoi occhi. Che cosa ci fa un randaggio nella cameretta del bambino? E con una scopa spinge Biaggio in uno sgabuzzino strillando. Piccole pesti! Finirete al canile comunale. Poi corre a chiamare la calappia cani. Ben presto Biaggio finisce dietro le sbarre nel carro della calappia cani. Questo randaggio ha assalito un bambino, dice l'uomo, portandolo via. Possibile? Whisky e Fido si guardano incerti ed è allora che tornano a casa Gianni e Tesoro. Lilli non perde tempo, mostra ai suoi padroncini il ratto e Gianni e Tesoro capiscono che Biaggio non ha fatto niente di male, anzi ha salvato il loro bambino. Ora bisogna salvare lui, perciò escono di casa in tutta fretta per ritrovare quel bravo randaggio. Il carro è già lontano, ma Fido e Whisky lo hanno quasi raggiunto. Fido un tempo faceva il cane poliziotto e ha usato il suo fiuto prodigioso per seguire le tracce del carro lungo le strade della città. Eccolo laggiù! Whisky e Fido senza paura rincorrono il carro e riescono a fermarlo facendo imbizzarrire i cavalli. Un attimo dopo arrivano anche Gianni e Tesoro con Lilli. Tutto è finito bene grazie al cielo, ma che avventura ragazzi! E torna il Natale che porta pace e felicità ai tanti doni. Lilli e Biaggio però hanno già ricevuto il regalo più bello. Dal loro amore sono nate tre dolcissime cucciole uguali alla loro mamma e un maschietto che è il ritratto del papà. Nella grande casa di Gianni e Tesoro un grande albero scintilla d'oro. Che gioia, che meraviglia! Oggi festeggia tutta la famiglia! Fine